Questa sera il Consiglio Comunale di Fano voterà 4 delibere per saldare i debiti fuori bilancio risalenti al 2013 per gli operatori che avevano dispensato servizi in ambito sociale. Si mette così la parola fine su questo aspetto di una vicenda che alcuni mesi fa balzò gli onori della cronaca dopo che la ragioneria del comune capofila bloccò i pagamenti alle cooperative che erogavano servizi per l'ente sociale denunciando incongruenze di carattere gestionale. Morale della favola la coordinatrice di allora Sonia Battistini rimossa e nominato un coordinatore protempore con il difficile compito di riorganizzare il servizio e traghettare l'ambito fino al punto di oggi. Avrà la facoltà appunto di votare questa deliberazione dei debiti e quindi avremo così la possibilità e a questo ci teniamo veramente tanto di poter liquidare tutti i soggetti che hanno reso delle attività già da più di tre anni e quindi già in parte lo abbiamo fatto a novembre nel consiglio comunale di novembre quindi per una parte oggi concludiamo. Ecco è giusto perché chi ha lavorato deve essere pagato e deve essere riconosciuto l'impegno che ha svolto. L'utenza è stata avuta il servizio che meritava e quindi diciamo è stato possibile ricostruire, fare un percorso corretto di ricostruzione e di rendicontazione. Questo delicato lavoro di ricucitura e di riorganizzazione dell'ente in vista delle nuove disposizioni da parte del coordinatore protempore Maurizio Mandolini ha fatto sì che in 165 giorni fossero reperiti fondi per 1.573.000 euro provenienti da Regione, Provincia ed IMS per spese rendicontate e altri 791.000 euro per nuovi servizi facendo salire il bilancio di gestione a 2.300.000 euro. Allora, esperienza complicata, interessantissima e raggiunta con il sostegno del Comitato dei Sindaci che mi ha accompagnato in questa operazione di riordino dell'ambito dal punto di vista normativo l'abbiamo messo in condizione di funzionare dal punto di vista amministrativo nella piena regolarità e abbiamo recuperato un milione e mezzo di euro di rendicontazioni non ancora trasferite al Comune di Fano e all'ambito territoriale. Cosa lascio di importante? Lascio la soddisfazione per aver contribuito alla costruzione di un rapporto di fiducia tra comuni. Ora non rimane che attendere la nomina del coordinatore effettivo che spunterà dalle 23 domande giunte all'amministrazione. che a passi veloci entro Pasqua vorrebbe già incaricare. Oltre all'iscrizione all'albo si richiedono, condizio sine qua non, competenze amministrative adeguate e esperienze pregresse nella gestione dei servizi legati al welfare e dei servizi di sollievo. Grazie. 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 Grazie.